Ben ritrovati su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia, la cronaca in primo piano partendo da Siracusa. I carabinieri della stazione di Siracusa Ortigia hanno denunciato una 39enne responsabile del furto di un'autovettura ai danni di un pensionato. I militari, dopo aver raccolto la denuncia della vittima, che aveva lasciato parcheggiata la sua auto per recarsi in banca, non trovandola più al suo ritorno, hanno avviato le indagini e attraverso l'analisi di telecamere e tabulati telefonici sono riusciti a identificare l'autrice del furto. I carabinieri hanno così rintracciato la donna che è stata denunciata, mentre la macchina è stata recuperata e restituita a legittimo proprietario. Cambiamo argomento a Catania, spaccio di sostanze stupefacenti in via Capopassero. Sono intervenuti i carabinieri che hanno tratto in arresto un 37enne pusher, il servizio. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un pregiudicato catanese di 37 anni nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio perlustrativo antidroga nel comprensorio di Trappeto Nord, i militari hanno acquisito un punto d'osservazione notando l'uomo, a loro noto per i suoi specifici trascorsi giudiziari in materia di spaccio di stupefacenti, che discuteva con alcuni giovani sotto i portici delle palazzine di via Capopassero. Hanno pertanto circoscritto l'area bloccando ogni via di fuga al 37enne, il quale, dopo un timido tentativo di scappare, ha desistito consegnando ai carabinieri il suo ormai noto kit dello spacciatore, cioè una borsa a tracolla contenente l'occorrente per esercitare l'attività di pusher. All'interno della borsa, i carabinieri hanno trovato 5 buste di plastica contenenti droga e, nello specifico, 85 grammi di cocaina e 30 di marijuana, singolarmente confezionate in 238 dosi complessive, pronte per la vendita al dettaglio, nonché la somma di 185 euro e l'immancabile radio ricetrasmittente per le comunicazioni di servizio con le vedette poste a tutela degli spacciatori. Il 37enne è stato posto dai carabinieri a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto disponendo la sua sottoposizione ai domiciliari. Notizia da Giarre, siamo sempre nel Catanese, parliamo in questo caso di una rapina in un supermercato con un 26enne finito immanente. I carabinieri di Giarre hanno arrestato un 26enne del posto nella quasi flagranza del reato di rapina aggravata. Nella giornata del primo marzo intorno alle 19.30, orario quindi prossimo a quello di chiusura, un rapinatore solitario con il volto celato da una maschera carnevalesca ed armato di una pistola semi-automatica si è introdotto all'interno di un supermercato di via delle province portando a termine una rapina a seguito della quale minacciando una dipendente è riuscito a sottrarre dalla cassa dell'esercizio commerciale, la somma di 650 euro. L'immediato intervento dei carabinieri, grazie alla descrizione dell'autore della rapina da parte dei testimoni, nonché alla disamina dei filmati del sistema di videosorveglianza del supermercato, ha loro consentito di identificare ragionevolmente il malvivente sospettato tra l'altro d'aver perpetrato il giorno prima un ulteriore assalto con analoghe modalità ad un bar tabacchi annesso ad una stazione di servizio in via Don Luigi Sturzo. Una tempestiva perquisizione presso l'abitazione del 26enne ha quindi fornito riscontri alle ipotesi investigative dei carabinieri i quali hanno rinvenuto due pistole da softair fedelmente riproducenti un modello a fuoco ma soprattutto un giubbotto della medesima foggia e con identiche stampe impresse di una società privata, quindi non acquistabile, in commercio indossato dal rapinatore durante la rapina e ritratto dal sistema di videosorveglianza. In merito infatti il giovane aveva sino a quel momento mostrato un atteggiamento del tutto tranquillo lasciando però trasparire un evidente nervosismo quando ha poi constatato l'interesse dei militari per quel capo d'abbigliamento consapevole del fatto che lo avrebbe posto di fronte alle sue responsabilità. Il 26enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto ed ha disposto la misura a cautelare presso il carcere catenese di Piazza Lanza. A Comiso nel Ragusano un uomo è stato invece arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Prosegue l'attività di contrasto ai reati contro la persona del comando provinciale dei carabinieri di Ragusa. I fatti risalgono al mese di ottobre 2022 nel comune di Comiso quando un utente della strada avvicinato al finestrino della propria autovettura venne aggredito da una persona a lui conosciuta e colpito più volte al capo con una piccozza. Nonostante la vittima tentasse di parare i colpi con le braccia solo l'intervento dei passanti riuscì a interrompere la furia violenta dell'aggressore datosi poi alla fuga a bordo di un veicolo. I carabinieri della stazione di Comiso, giunti sul luogo dell'evento, dopo aver proceduto al sequestro della piccozza, avviarono le indagini identificando l'aggressore. Il quadro indiziario e gli elementi investigativi raccolti hanno così permesso di delineare le responsabilità dell'uomo e definire con maggiore chiarezza la dinamica dei fatti, descrivendo una preoccupante pericolosità sociale e di reiterazione a carico dell'aggressore, tale da far ritenere doveroso per la Procura della Repubblica avanzare richiesta al GIP per l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio e porto di oggetti atti a offendere. La misura cautelare concessa è stata poi eseguita materialmente dai militari della stazione di Comiso. A Palermo invece i carabinieri hanno tratto in arresto uno spacciatore trovato in possesso di 21 dosi di cocaina. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato un 49enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha destato i sospetti dei motociclisti dell'arma a causa della reazione avuta al loro passaggio mentre percorrevano un vicolo nella zona di Via dei Candelai. Dapprima intento a parlare con altre persone alla vista dei carabinieri si sarebbe discostato lanciando in aria un involucro e tentando subito la fuga a piedi per le stradine limitrofe. Il 49enne avrebbe anche tentato di rallentare uno dei militari lanciandogli contro una sedia ma dopo pochi passi è stato raggiunto, bloccato e perquisito. Addosso nascondeva oltre 800 euro in banconote di piccolo taglio mentre l'involucro abbandonato conteneva 21 dosi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai carabinieri di trovare dentro una cassetta di sicurezza nascosta nella camera da letto più di 11 mila euro in contanti oltre a qualche spinello e a materiale utile per il confezionamento delle dosi di stupefacente. L'arresto del 49enne è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo che ha disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il denaro è stato posto in sequestro come verosimile provento dell'attività di spaccio mentre la droga anch'essa sequestrata in campionata verrà inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per le opportune verifiche qualitative e quantitative. Traffico di droga anche a Messina con la Guardia di Finanza che ha intercettato e tratto in arresto un corriere della droga. I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno sequestrato circa 3.600 grammi di cocaina in transito sullo stretto arrestando un soggetto per violazione alla normativa in materia di sostanze stupefacenti. L'attività condotta dalle fiamme gialle del gruppo di Messina con il prezioso ausilio delle unità cinofile attesta la costante attenzione al contrasto dello spaccio di droghe soprattutto ai punti di accesso alla Sicilia. In particolare grazie al fiuto del cane antidroga Urban altamente specializzato in operazioni della specie durante il controllo di un minivan appena sbarcato dalla costa Calabra con a bordo una coppia con al seguito sei figli minorenni i finanzieri hanno rinvenuto tre panetti contenenti oltre tre chili e mezzo di cocaina abilmente occultati in un vano naturale del mezzo ricavato tra tetto e il suo rivestimento lo stupefacente avrebbe potuto fruttare sulle piazze di spaccio siciliane oltre 700 mila euro. Sulla base delle risultanze investigative che dovranno comunque trovare conferma in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio e fermo restando il generale principio di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato l'indagato è stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e associato alla casa circondariale di Messina Gazzi. L'impegno nello specifico comparto testimonia ulteriormente la rilevanza attribuita al fenomeno criminale dalle fiamme gialle messinesi e dall'autorità giudiziaria peloritana confermando inoltre la centralità del territorio messinese quale porta ad ingresso dello stupefacente nell'isola nonché punto strategico per il transito e il traffico di ingenti quantità di narcotico primaria fonte di sostentamento delle organizzazioni criminali. Frode sulle accise petrolifere, tre arresti a Catania con la Guardia di Finanza che ha sequestrato 53 mila litri di carburante che era stato allungato con oli esausti. Tre persone sono state arrestate e poste ai domiciliari dai finanzieri del comando provinciale di Catania poiché ritenute responsabili di sottrazione fraudolenta all'accertamento al pagamento delle accise sugli oli minerali. Nei loro confronti le fiamme gialle, su delega della Procuretnea, hanno eseguito un'ordinanza del GIP. L'indagine è stata condotta dalle unità specializzate del gruppo Tutela Finanza Pubblica del nucleo PEF di Catania della Guardia di Finanza con la collaborazione di funzionari dell'ufficio antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Palermo. L'inchiesta ha preso origine da un controllo sulla qualità del prodotto petrolifero scaricato in un distributore stradale della provincia Etnea che è risultato avere un altissimo contenuto di zolfo. I successivi approfondimenti investigativi avrebbero permesso di ricostruire il meccanismo di frode che sarebbe stato attuato dagli indagati Giuseppe Adornetto, di 36 anni, Vincenzo Salvatore Adornetto, di 64 e Claudio Iacono, di 66 anni. Secondo l'accusa, gli Adornetto, a vario titolo amministratori e legali rappresentanti di due società di autotrasporto con sede nella zona industriale di Catania, con l'ausilio di Iacono, già dipendente di una delle società con mansioni di autista, avrebbero sfruttato i trasporti di prodotti energetici eseguiti per conto di ignari committenti per prelevare di volta in volta dalle autobotti migliaia di litri di carburante, sostituendoli con analoghi quantitativi di oli esausti di scarsa qualità. Il carburante prelevato dagli indagati sarebbe stato successivamente destinato sia al rifornimento degli automezzi aziendali, sia alla vendita abusiva al dettaglio a privati con una stazione di servizio abusiva. A conclusione delle indagini, sono state deferite alla procura di Catania 5 persone e sequestrati circa 53.000 litri di carburante miscelato, 5.000 litri di oli lubrificanti esausti, 2 autocisterne e l'apparecchiatura per l'erogazione clandestina del prodotto. Andiamo adesso a vedere il bilancio delle attività svolte dalla Polizia Ferroviaria nelle stazioni siciliane durante il mese di febbraio. 12.309 persone controllate, 12 indagati, 400 treni presenziati, 210 veicoli spezionati, 65 contravvenzioni elevate e 1.303 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria. E questo è il bilancio delle principali attività di controllo effettuate dalla Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia lo scorso mese di febbraio. I poliziotti della specialità, oltre alle consuete attività di istituto, sono stati impegnati in quattro giornate dedicate ai controlli straordinari predisposti dal servizio Polizia Ferroviaria su tutto il territorio nazionale, inerenti le operazioni Oro Rosso, finalizzata al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario, stazioni sicure con l'obiettivo di incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e RailSafe Day per contrastare i comportamenti scorretti sempre in ambito ferroviario che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti. La Polfer ha svolto ulteriori controlli a Catania unitamente alla Polizia Municipale e al reparto cinofili della locale Questura per combattere il degrado e restituire decoro all'area circostante alla stazione, controlli che hanno portato a elevare sanzioni per circa 20.000 euro per irregolarità nelle licenze di alcuni esercenti e verbali per violazioni al codice della strada. Su tutto il territorio della Sicilia sono stati rintracciati cinque minori, di cui due a Catania, due a Palermo e uno a Messina, tutti riaffidati alle rispettive comunità da cui si erano precedentemente allontanati. I controlli sul territorio sono stati affiancati costantemente dall'attività di educazione alla legalità e alla sicurezza ferroviaria che ha consentito agli agenti della Polfer di Taormina, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo di svolgere incontri formativi nelle scuole di ogni ordine e grado raggiungendo oltre 1.200 studenti nell'ambito dei progetti Train to be Cool, Pretendiamo Legalità e Incroci. Quest'ultimo progetto ha fatto il suo debutto proprio nel mese di febbraio suscitando subito grande interesse nel mondo scolastico per l'interdisciplinarità dei temi trattati riguardanti il viaggio sulla rete, sul mezzo ferroviario e su strada. Diverse le richieste di assistenza aggiunte alla sala operativa della Polfer da parte di viaggiatori distratti per il recupero di effetti personali dimenticati a bordo treno, in stazione e sui traghetti operanti nello stretto di Messina. In particolare a Catania gli agenti hanno recuperato e restituito a turisti di diversa nazionalità dei dipinti, circa 1.000 euro in contanti, documenti e una macchina fotografica. Era l'ultima notizia, ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24.